Sindaco, nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni sui vari social, tra cui Facebook, che parlano di una scarsa manutenzione, di uno scarso appeal, possiamo dire, a Cologna Spiaggia. Le hanno sollecitato diversi abitanti appunto di Roseto, precisamente di Cologna Spiaggia, e lei ha risposto come per dire risolveremo diverse problematiche, fatemi sapere, facciamo intendere come lei è vicino alle elezioni di Roseto nel 2021. Ma diciamo che innanzitutto ci fa piacere che tanti cittadini di Roseto e della frazione di Cologna Spiaggia comunque vengono qui in Comune a Giulianova a riportarci delle problematiche e a chiederci dei consigli. Questo ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo presso il Comune di Giulianova. Naturalmente siamo pronti a dare una risposta come centrodestra anche al Comune di Roseto. La frazione di Cologna è stata lasciata nel più totale abbandono, sembra che non faccia parte al Comune di Roseto e degli Abruzzi, quindi sono convinto che riusciremo tutti insieme, insieme alle forze presenti in Consiglio Comunale, ai partiti, a dare una risposta concreta ai tanti cittadini che purtroppo si rivolgono al sindaco di Giulianova perché probabilmente trovano le porte chiuse col sindaco di Roseto. Il centrodestra si sta preparando in pompa magna per le elezioni del 2021, si è rispettate a maggio, comunque se si andrà a settembre posticipate. Com'è al momento la situazione? Diciamo che ieri c'è stato il tavolo online convocato, si è deciso di fare un tavolo locale a Roseto, di aprirlo. Qualora il partito decidesse che a rappresentare la Lega a quel tavolo debba andare io, sarò assolutamente fiero ed orgoglioso di farlo e di portare quelle che sono le sensibilità del territorio, che in questo momento sono tante, perché il territorio di Roseto e Abruzzi ha bisogno di risposte nell'immediato e non si può più aspettare. Ecco, Fratelli Italia aveva già un coordinamento comunale con Francesco Giuseppe e notizia di ieri che è stato creato quello di Forza Italia con Maristella Urbini, al momento manca solo la Lega. Sì, sarà mia premura, nel primo pomeriggio verrà il coordinatore regionale, era una di quelle cose che ci eravamo messi a calendario, sarà mia premura da qui a pochissimi giorni di recarmi insieme a tutti i quadri del partito, al segretario regionale in primis, per dare un'impronta decisa al comune di Roseto e nominare il coordinatore comunale, nominare una serie di figure che potranno andare a comporre la lista. Io da parte mia sapete perfettamente che in ogni comune della provincia di Teramo ho fatto liste con l'associazione Verso e quindi naturalmente non mi tirerò indietro adesso nelle lezioni di Roseto dove andrò sicuramente a dare una mano e un contributo con la lista della Lega.